Comune di Napoli e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Partenopei hanno sottoscritto un protocollo di intesa per consentire ai giovani avvocati che effettuano la pratica presso l'avvocatura dell'ente di completare il percorso. L'ordinamento forense prevede infatti che il tirocinio svolto presso gli enti locali non superi i 12 mesi e risulta difficile nella maggior parte dei casi per questi giovani trovare studi privati disponibili ad accoglierli per i restanti 6 mesi di pratica necessari per accedere all'esami di Stato. Obiettivo dell'intesa, siglata tra il sindaco De Magistris, l'avvocatura del Comune e il Consiglio dell'Ordine, è di colmare questo vuoto temporale aiutando i giovani professionisti ad inserirsi presso uno studio e concludere il tirocinio. Consiglio dell'Ordine e Comune sono già al lavoro per la definizione di un ulteriore protocollo volto ad aprire sportelli presso ognuna delle municipalità per far conoscere ai cittadini lo strumento del patrocinio gratuito dello Stato rivolto alle fasce meno abbienti.